Tragedia nel mondo dello spettacolo. L'addio improvviso di Silvina Luna, icona argentina, legata indissolubilmente al mondo dello sport. La notizia che ha sconvolto il web e l'opinione pubblica è stata riportata da America TV. La giovane, che oltre alla sua carriera di attrice e conduttrice, ha anche fatto incursioni nella moda e persino negli stadi, ci ha lasciati in circostanze che fanno rabbrividire. Nel 2011, Silvina era passata sotto il bisturi per un piccolo ritocco estetico, un'operazione che sembrava essere andata a buon fine. Tuttavia, le conseguenze nefaste hanno iniziato a manifestarsi anni dopo, quando ha iniziato ad affrontare seri problemi ai reni. La situazione è diventata così critica da costringerla ad entrare in lista d'attesa per un trapianto. Mentre attendeva ansiosamente il suo turno, un feroce batterio si è infiltrato nel suo corpo, scatenando un'aggressiva infezione. Silvina ha lottato coraggiosamente per la vita, trascorrendo ben due mesi e mezzo in un'unità di terapia intensiva. Purtroppo, il suo organismo ha ceduto, portando alla sua scomparsa. Le indagini delle autorità hanno svelato una verità scioccante. L'attrice e modella è stata vittima di un eccesso di metacrilato, una sostanza non autorizzata dall'Agenzia del Farmaco. Questa sostanza era stata iniettata nel suo corpo da un famoso chirurgo estetico, Anibal Lutoki, che ha operato molte celebrità. Questo tragico evento ha portato alla morte prematura di Silvina Luna, che aveva solo 43 anni. Silvina era nota anche per la sua relazione con il calciatore Daniel Osvaldo, che ha giocato in Italia indossando le maglie di squadre come Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Bologna, Lecce e Atalanta. La sua carriera nello spettacolo è decollata dopo la partecipazione al Grande Fratello Argentino nel 2001, da cui ha guadagnato una serie di conduzioni televisive e impegni teatrali che l'hanno resa una figura amata dal pubblico. La sua morte lascia un vuoto nel cuore dei suoi fan e dei suoi cari, un triste ricordo di una talentuosa artista che è stata portata via troppo presto. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!